E' ora di andare a letto. Le sue immagini dalla struttura mi fanno vedere degli assembramenti, degli assembramenti senza mascherine. L'idea che questo possa essere accaduto anche in quei momenti di alta tensione legata al virus mi preoccupa e potrebbe preoccupare qualcuno. Quando è successa l'emergenza gli ospiti sono stati tutti bloccati nelle loro stanze. Quindi non è stata sospesa qualsiasi tipo di attività dalla fisioterapia in palestra che veniva fatta dove c'era bisogno al letto del paziente a tutte le attività educative. Oggi che torniamo a una situazione di seminormalità ci permettiamo in una situazione dove abbiamo pazienti totalmente asintomatici di far percepire loro la possibilità di una quasi normalità. Però le dico mi ha fatto un po' impressione perché non siamo ancora abituati a vedere tante persone così vicine e pensarle tutte così vicine in una casa di riposo che è praticamente diciamo l'occhio del ciclone in questo momento mi ha fatto, mi ha creato un po' di imbarazzo mettiamola così. Noi siamo la casa di riposo che ha iniziato, che ha esordito per prima come sintomatologia tant'è che siamo quelli che a oggi pensano e sperano di aver visto tutto il peggio che si poteva vedere. Tant'è che ormai da dieci giorni non abbiamo più un decesso, mentre in altre strutture l'onda sta arrivando adesso. Quindi il tornare a farli vivere insieme è la cosa che riteniamo assolutamente più corretta e più giusta. Pensare di mettere una mascherina sul viso di tanti di questi ospiti non è pensabile perché non la tollerano, perché è fastidiosa. E quindi è giusto che sia anche così. Quindi a vederli lei non ha paura? No. Non ho paura, non ho paura che loro passino qualcosa a me perché ritengo che siano assolutamente più puliti di me. E quando io invece o il personale si interfaccia con loro abbiamo gli ausili di protezione per far sì che non possa succedere che vengano contaminati nuovamente dall'esterno. E che si passino qualcosa tra di loro non ha paura? No. No, anche perché è possibile trasmettere da sintomatici, quindi... È possibile trasmettere da sintomatici, ma diciamo che ormai in periodo di quarantena i nostri ospiti l'hanno fatto tutti. Nuovi ospiti all'interno non ne abbiamo. Quindi sono tutte persone storiche che hanno vissuto dentro lì il periodo caldo, che hanno visto morire tutti gli altri ospiti e oggi diciamo che loro la bella quarantena se la sono fatta nel vero senso della parola. Cioè è da pochi giorni che questi ospiti hanno tornato a fare un minimo di socializzazione. Però come mi diceva lei oggi, anche gli operatori non si può mai sapere dove vadano, vanno a fare la spesa, vanno in farmacia. Infatti gli operatori ad oggi utilizzano una divisa che viene lavata tutti i giorni all'interno della struttura, un copricapo che viene cambiato tutti i giorni, i guanti, la mascherina che viene cambiata, utilizzano tutti i presidi di protezione che fanno sì che all'interno il virus non arrivi. Poi è ovvio che la certezza matematica non ce l'ha nessuno, neanche io quando vado a lette lunga a fare la spesa.